salve a tutti oggi vi presenterò il modello carlando g500 è un modello storico di carlando che esiste dal 1995 più o meno qualitativamente si colloca come un prodotto alto di gamma avendo delle sponde da due centimetri e mezzo quindi molto robusto piedi quadri con gambe 15x15 in acciaio piano gioco in vetro angoli rialzati i classici omini monofusione della carlando con aste da 16 mm e spessore da 2,2 classiche molle coniche esiste in versione aste uscenti e aste rientranti ovviamente nel caso di utilizzo da parte di bambini è consigliabile l'utilizzo la scelta delle aste rientranti cuscinetti tra asta e sponda che aiutano la rotazione della stecca sentiamo appunto durante la rotazione il classico rumore grazie a tutti per la visione io sono luigi da timesport 24 e al prossimo video grazie a tutti